Il capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica, Enzo Veciarelli, è stato ascoltato dalla Commissione Speciale del Senato per l'esame degli atti urgenti nel Governo sul programma che dovrebbe fra l'altro garantire un futuro alla piaggia Aerospace di Vina Nova Dalbenga. Si tratta del progetto di sviluppo di velivoli a pilotaggio remoto di nuova generazione, i P2HH. A febbraio il Ministro della Difesa, Roberta Pinotti, aveva presentato al Parlamento un decreto che prevedeva l'acquisto da parte dell'Aeronautica di 20 di questi sistemi per un totale di 766 milioni di euro. La Commissione del Senato deve ora esprimere il suo parere vincolante. Sulla questione ci sono però numerose incertezze da parte di molti parlamentari legate ai tempi di realizzazione, ai costi e anche circa l'opportunità per l'Italia di avventurarsi in un programma di sviluppo così a lungo termine. Di contro, Francia e Germania stanno acquistando droni militari da Israele e Stati Uniti, conquistando così un vantaggio competitivo rispetto all'Italia, che ancora non ha rinnovato il suo parco velivoli a pilotaggio remoto. Gli Emirati avevano firmato un contratto per l'acquisto di otto sistemi P1HH, ma molti requisiti che erano associati al progetto si sono dimostrati non raggiungibili per la Piaggio, che avrebbe dovuto consegnare il prodotto in soli due anni e oggi il piano è in netto ritardo. La decisione ora tocca ai parlamentari e se il progetto dovesse saltare non ci sono altre soluzioni all'orizzonte per cercare di salvare la Piaggio di Vinanova d'Albenga.